Michele guardami Ma come ti fai a baggare? Boh, Michele guarda, Michele guarda Guarda No, va il fatto della canna alla pesca, va il fatto della canna alla pesca Ma è croccante però, bau E la... E la c... Oh, ecco, guarda la davanti, guarda la davanti, la davanti Questa Michele non ci facciamo vedere Michele non ci facciamo vedere Shhh Ah, lo stanno? Guarda, 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 sta film Eh, eh, buai No, no, no Michele, Michele, lo trovo Eh, Nicolò Nicolò Eh, scendete Eh, allora, fatevi la scala Sì, 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 sì Allora, al mio 3 Al mio 3 iniziamo, ok? Al mio 3 iniziamo, ok? Perché noi qua ci siamo però non ci vedete E noi non vediamo voi Ok, Nicolò, al mio 3 iniziamo Voi noi non ci vedete e noi non vediamo noi Io non so neanche dove sta partita In 1, 2, 3 Ufff 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 Shhh 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 Ufff 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 Shhh 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 Grazie a tutti.